Buona domenica a tutte e a tutti. Con questo video iniziamo una serie di lezioni dedicate alla Costituzione italiana, lezioni utili anche per preparare l'esame di Stato, per preparare l'interrogazione di cittadinanza e Costituzioni. Oggi è il 2 giugno, mi sembra la data ideale per iniziare insieme questo percorso di Costituzione italiana. Vedremo di fatto in ogni puntata un articolo, l'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12 fondamentali, poi vedremo anche alcuni degli articoli principali della Costituzione italiana, ma oggi iniziamo con una brevissima introduzione a questo percorso parlando proprio del referendum del 2 giugno del 1946. Oggi cosa si festeggia? Oggi si festeggia la nascita della Repubblica perché il 2 giugno del 1946 con una ristretta ma significativa maggioranza gli italiani e le italiane, per la prima volta chiamate al voto, scelsero nel referendum tra monarchia e Repubblica la Repubblica. Pertanto oggi si festeggia la nascita di una Repubblica, di una Repubblica poi democratica, fondata sul lavoro, laica, pluralista, antifascista, una vera e propria grande innovazione all'interno della storia della nostra Italia, una grande novità. Dunque oggi è un giorno di festa, si festeggia la Repubblica nata dopo vent'anni di fascismo, nata dopo cinque anni di durissima guerra, nata sulle gesta anche della liberazione, della resistenza, dell'intervento americano, nata a partire da una classe dirigente di primissimo livello, nata con un elito di libertà, di uguaglianza, di democrazia, nasce una Repubblica, ripeto, laica, democratica, antifascista, solidale, nasce una Repubblica che prova a fare dell'unità d'Italia, della partizione maschile e femminile alla Repubblica un punto di crescita della nostra comunità politica. Vediamo insieme come si arriva al 2 giugno e vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questo voto. Si arriva al voto in una situazione sociale ed economica e politica particolarmente tesa e difficile. L'Italia dopo un anno dalla fine della seconda guerra mondiale, della cosa del fascismo, appunto nei giorni del 25, 26, 27 aprile del 1945, l'Italia ad un anno abbondante dalla fine della guerra si trova una situazione economica molto molto dura, la crisi economica è pesante, erode appunto le condizioni materiali di vita degli italiani, la crisi politica è comunque da risolvere, bisogna dare vita appunto ad un'assemblea costruente, bisogna dare vita ad un nuovo corso politico dopo appunto vent'anni di dittatura, le tensioni tra i partiti anche del cellenne, tra democristiani, comunisti, socialisti sono molto forti, abbiamo già una divisione del mondo in atto, c'è già una guerra fredda che si sta di fatto estendendo e dispiegando in Europa e nel mondo e poi c'è anche ovviamente una crisi della monarchia, cioè c'è un re, Vittorio Emanuele III, che si sta prestando ad andare ad un referendum ampiamente compromesso con il fascismo, con la guerra, con l'avvento del fascismo, con le leggi razziali, con la scelta del punto dell'ingresso in guerra, con l'avvallo alla marcia su Roma, c'è un re che ha firmato tutte le leggi fascistissime, dunque una dinastia di Savoia che è profondamente compromessa con il fascismo, con le leggi razziali, con la guerra e era già profondamente compromesso con la prima guerra mondiale fortemente venuta da Savoia e poi per di più Vittorio Emanuele III è compromesso con l'avvento del fascismo, non ha fatto di nulla per fermare la marcia su Roma, anzi quando fatta ha proclamato posto di assedio e voleva appunto che il re firmasse l'intervento dell'esercito, si è trovato con le spalle al muro e si è trovato di fronte a un re che ha deciso invece di accogliere Brito Mussolini e di dare adesso l'incarico per formare il nuovo governo della monarchia italiana, dunque un re che poi ha firmato le leggi fascistissime, che ha inscritto la pena di morte per i reati politici, ha istituito il reparto confine dove venivano messi, campo confine dove venivano essere i dissidenti politici, un re che ha avvallato le leggi razziali, ha avvallato le conquiste coloniali, ha avvallato una guerra coloniale in Libia e poi in Etiopia con tanto di utilizzo di gas e di campi di concentramento per appunto prigionieri e oppositori libici ed etiopi. Dunque è un re profondamente compromesso con il fascismo e con il passato ed è proprio questo passato che porta il re ad abdicare. Il re di fatto il 9 maggio del 1946 abdica a favore del figlio Umberto II, abdica e si ricuce addosso il titolo appunto di Conte di Pollenzo che era appunto una località vicino a Abra e fugge, abdica a Napoli e fugge immediatamente in esilio, in esilio volontario in Egitto ospite del re Farouk. Abdica non potendo abdicare perché dei decreti, il luogo tenenziale avevano stabilito in questa fase transitoria dopo la fine della seconda guerra mondiale all'inizio del nuovo governo, un nuovo stato, una forma appunto politica che il re non potesse appunto abdicare e fuggire. Dunque il re ancora una volta non rispetta le leggi, ancora una volta il re si mostra appunto calcolatore, giocatore d'azzardo, non rispetta i decreti di luogo tenenziali, abdica a favore del figlio e fugge in esilio volontario in Egitto presso il re Farouk. Alcide De Gasperi non assume i poteri speciali, non assume nessun potere che spettava appunto al re proprio perché non vuole abballare un'iniziativa illegale, dunque illegittima. Dunque nel maggio del 46 il rittore Emanuele III abdica lascia il trono al figlio, il cosiddetto poi re di maggio, nel tentativo di fatto di salvare la monarchia, nel tentativo di presentare un volto nuovo per il referendum del 2 giugno. Il 2 giugno era un referendum campale, sarebbe stato un referendum campale per appunto la monarchia e la casata dei Savoia e i nobili monarchici italiani vedono anche di buon occhio questo abbandono da parte del re in modo tale che un nuovo volto, un re giovane, un volto appunto non compromesso con il fascismo avrebbe potuto magari ottenere maggior consenso, avrebbe potuto un po' lavare i panni nell'arno, far sì che alcuni italiani dimenticassero, non abbinassero più alla parola monarchia il volto appunto di Vittorio Emanuele III. Dunque questo gesto estremo è il gesto estremo di un re compromesso con la prima guerra mondiale, con il fascismo e con la seconda guerra mondiale, un gesto estremo che però non salverà comunque la monarchia, la monarchia italiana. Il 2 giugno si arriva alle votazioni a suffragio universale, gli italiani e le italiane hanno un doppio voto da esprimere, devono votare per la monarchia o per la repubblica e devono votare il partito e i corrispettivi delegati per l'assemblea costituente. Dunque un duplice voto campale, esiziale, direi seminale perché si semia per il futuro esiziale, perché muore qualcosa e nasce qualcos'altro. Dunque è un vero proprio voto campale, qua o muore la repubblica, cioè non nasce la repubblica o muore la monarchia, cioè appunto non ritorna più, non sta più in auge la monarchia. Dunque il voto è campale o monarchia o repubblica e poi il voto è seminale perché si semia più che mai per la costruzione della nuova Italia, con una nuova costruzione, con nuovi diritti, nuovi doveri, con un'architettura costituzionale. Dunque serve una nuova legge delle leggi che vada oltre tutto il Bertino e nascerà appunto la nostra costruzione che vedremo articolo per articolo nelle prossime lezioni. Gli italiani si recono alle urne, sono appunto circa 12 milioni di uomini, 12 milioni di donne che si devono appunto recare alle urne, c'è circa 25 milioni di italiani, hanno appunto il diritto di voto, si vota appunto con una duplice scheda, repubblica o monarchia e assemblea nazionale costruente, assemblea appunto costruente, assemblea che deve stipulare poi la legge delle leggi. Dunque un voto per la monarchia o repubblica e un voto per il partito, i corrispettivi delegati, tutti scelti in modo proporzionale con un'autentica dunque scelta di democrazia, con un'autentica democrazia rappresentativa sempre, cioè bisogna essere rappresentati in maniera proporzionale, ogni partito deve avere un numero di delegati, di padri e madri costruenti in proporzione al voto che ha preso, al numero di voti che ha preso. Questa è dunque la sfida autenticamente democratica dei partiti del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale che si è costruito a Roma nel settembre del 1943, appunto dopo l'armistizio, dunque la democrazia cristiana rinata dal cielo protopolare, il protocupist d'Italia, il partito socialista che poi si uniranno nel 1948 nel fronte popolare italiano, il preto d'azione, i repubblicani, i liberali, poi si prendono chiaramente anche i monarchici, nascerà un partito significativo per la nostra storia, il partito di Giannini, un commediografo, un imprenditore del mondo del teatro di Napoli che fonda il partito dell'uomo qualunque, UQ, uomo qualunque, né di destra né di sinistra, in realtà era poi un movimento populista di destra, come spesso capita a chi si proclama né di destra né di sinistra, l'uomo qualunque, non sottostiamo la democrazia cristiana ma soprattutto ben lungi dal sottostare in futuro all'iniziativa, la politica, le scelte dei comunisti, dei socialisti visti del Giannini con il vero profumo negli occhi, un grande pericolo per la tradizione appunto italiana, per appunto la storia moderata e conservatrice nel nostro paese. E l'uomo qualunque prenderà tra un ottimo risultato, ma la prossima elezione è dedicata proprio a vedere chi sono i partiti e i percentuali di voti che prendono. Adesso rimaniamo appunto alla nascita della monarchia. Doppia scheda, monarchia o repubblica e dall'altro lato una scheda per votare in maniera proporzionale i rappresentanti per scrivere la Costituzione. Si giunge alle euro in un clima chiaramente durissimo, in un clima di grande contesa tra monarchia e repubblica. La monarchia di fatto gode dell'appoggio direttissimo della chiesa. Ci sono sacerdoti, vescovi, cardinali, preti, parroci che nelle omelie durante le messe dominicali o giornaliere fanno un appello alla monarchia, monarchia che richiama i valori della cristianità, monarchia che richiama anche ideologicamente la struttura della chiesa, con un re voluto da Dio, in questo caso il chiesa sarebbe stato un re espressione del popolo, sarebbe nata una monarchia costituzionale, però la struttura è più gerarchico e piramidale, un re, un papa, un dio e dunque c'è la chiesa che si rifà le tradizioni monarchiche, cattoliche, appoggia di fatto la scelta della monarchia. Poi ci sono i preti rossi, i parroci rossi, i parroci repubblicani, ci sono anche all'interno della resistenza italiana, nell'Emilia Romagna, ma anche in Toscana, in Lombardia, in Piemonte, alcuni parroci che prendono presi di posizione, prendono parte per la Repubblica e sostengono la Repubblica, ma la chiesa istituzionalmente nella maggioranza dei suoi membri appoggia la monarchia, la democrazia cristiana appoggia in gran parte la monarchia e poi abbiamo il mondo della Repubblica, i monarchici ovviamente appoggiano la monarchia, il partito di Giannini appoggia la monarchia, poi c'è i singoli cittadini con le loro teste, però è una campagna elettorale con questo schieramento pro-monarchia. Poi abbiamo i pro-Repubblica, ovviamente i cuburisti, i socialisti, i pretudazioni, i repubblicani, basta monarchia, cambiamento di rotta radicale, basta con i Savoia, basta con una monarchia appunto infangata dall'unità d'Italia in avanti, una monarchia che ha spesso represso le spinte sociali, progressiste, democratiche del paese, una monarchia che ha represso i moti del pane, una monarchia che è stata una monarchia del colonialismo, una monarchia della primo grado mondiale, del fascismo, delle legge razziali, una monarchia che è stata con il fascismo durante la guerra per poi appunto abbandonarlo nel luglio del 43. Dunque avete questi due schieramenti pro-monarchia e pro-Repubblica. Si arriva appunto alle urne, si arriva alle urne in un clima dicevo tesissimo, una campagna elettorale mente manichea, ogni partito accusava l'altro di fatto di essere la rovina dell'Italia, tenete conto che mentre c'è la scelta monarchia e Repubblica c'è anche la scelta sul partito da votare per scrivere l'assemblea costruente, allora le parole sono democrazia, cattolicesimo, antifascismo, pace, pane, guerra, unione sovietica, comunismo, democrazia, capitalismo, liberalismo, cattolicesimo, l'Italia è un partito a scarsa tradizioni liberali nonostante abbia avuto un gruppo dirigente liberale che l'ha fondata, il gruppo dirigente a destra storica e assista storica, però sono dei liberali un po' sui generi perché il liberalismo non è la grande tradizione politica del nostro paese, non è solito quella maggioritaria, il nostro è un paese appunto monarchico, in parte conservatore, cattolico-conservatore con alcuni passaggi di liberalismo e poi è un paese di grandi masse, masse contadine che si avvicina attraverso i socialisti, le leghe rosse, il movimento socialista, il movimento agrario e poi dopo le grandi masse cattoliche, il partito polaro, le leghe bianche e poi è un paese che ha partito dal fascismo, un partito nazionalista, populista, per alcuni aspetti anche qualunquista e sicuramente il liberalismo non è il fiore all'occhiello del nostro paese, non abbiamo tant'è anche molti pensatori liberali in Italia e dunque in questo clima di valori controposti, cattolicesimo comunismo, repubblica, monarchia, la guerra, la pace, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si va al voto e si va al voto e il voto divide l'Italia in due, spacca l'Italia in due al centro-nord, paese tra l'altro, area del paese in cui è stata fortissima la resistenza, resistenza partigiana contro i nazisti, contro la repubblica sociale, si afferma la repubblica in maniera netta e poi in modo particolare nei centri urbani, invece nel sud Italia, Basso Lazio, Puglia, Basilicata, Mosul, Molise, Sicilia e Sardegna, dunque anche nell'Iso si afferma la monarchia, adesso vediamo le percentuali dei voti, ribadisco soltanto la prevalenza della repubblica è nel centro-nord e nei centri urbani, la prevalenza per la monarchia è nel sud e nelle campagne, ovviamente il fatto che il centro-nord ci sia stata una partecipazione più attiva verso la resistenza, una persona attiva nella resistenza contro il nazifascismo e la repubblica sociale ha favorito la repubblica perché la maggioranza di partigiani in Italia comunque era la maggioranza, non gli nomi soli, socialista, comunista, poi il prezzo d'azione che ebbe un grande ruolo alla resistenza, poi ebbe anche un grande ruolo teorico intellettuale nella stesura della Costituzione ma che ebbe una percentuale di eletti molto 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 bassa, dunque abbiamo tra i partigiani una prevalenza netta verso la repubblica, lui è contro anche il re, il re traditore della patria, traditore della patria più volte per i suoi comunisti ed è anche il traditore della patria poi ovviamente per i fascisti che si considerano appunto scaricati e traditi da Vittorio Emanuele III, il re traditore con il tradimento di Mussolini nel luglio del 43 e la firma dell'armistizio e l'avvallo dunque allo sbarco in Sicilia da parte degli americani, dunque l'alleanza con gli americani dopo una resa di fatto incondizionata agli alleati. Vediamo le pressioni di voto, partiamo dall'Italia settentrionale, i voti assoluti nell'Italia settentrionale furono 7.272.993 e la repubblica ottenne il 64.8% dei voti, va bene, il 64.8% dei voti, importantissimo. Invece la monarchia ha preso in voti assoluti 3.945.142 voti, cioè il 35.2%. Nel nord Italia dunque con circa 14 anni di votanti, 64.8% la repubblica, 35.2% la monarchia, 7.272.000 voti, 993 per la repubblica, 3.945.142 per la monarchia, dunque la repubblica ha doppiato di fatto la monarchia, ha quasi doppiato. Nell'Italia centrale i voti assoluti per la repubblica furono 2.828.550, pari al 63.5, i voti per la monarchia furono 1.629.066, pari al 36.5%. Anche qua siamo quasi verso il doppio, dunque nell'Italia centrale netta prevalenza, netta scelta nei confronti della repubblica, netta prevalenza della repubblica. Per quanto riguarda l'Italia meridionale, la repubblica ottiene 1.701.000 voti, 171, pari al 32.6 e la monarchia ottenne quasi il doppio, 3.519.179 voti, pari al 67.4. In Sicilia 709.735 voti, pari al 35.3 per la repubblica e 1.303.560 voti per la monarchia, pari al 64.7% dei voti. Chiudiamo con la Sardegna, Sardegna per la repubblica 206.000 voti, 192.000, pari al 39.1 e 321.000 voti, 555, pari al 60.9 per la monarchia. Totale, finale in Italia 12.718.641 voti per la repubblica, la repubblica ottiene il 54.3% dei voti e per la monarchia 10.718.502 voti, pari al 45.7. Dunque con il 54.3% dei voti contro il 45.7 e il 54.3% contro il 45.7 vince il referendum del 2 giugno la repubblica, nonostante l'abdicazione e l'esilio volontario del re, nonostante Vittorio Emanuele III abbia deciso di lasciare al figlio Umberto II il titolo di re d'Italia, nonostante la Chiesa sia schierata con la monarchia, nonostante la democrazia cristiana abbia di fatto scelto in gran parte la monarchia, nonostante appunto i monarchici, il re, nonostante la vicina, nonostante la Chiesa, nonostante le campagne avessero di fatto appoggiato e scelto la monarchia, la repubblica vince, vince perché c'è la forza ancora della resistenza, dei socialisti, dei comunisti, vince perché c'è nel nord Italia un mondo produttivo di fabbriche urbano che ha fatto la resistenza, che ha scaricato comunque la monarchia, che ha scaricato il fascismo, che si è opposto al fascismo, che vuole cambiare le forme di governo, che vuole la repubblica, c'è una parte d'Italia che considera la monarchia troppo ormai compromessa, c'è una parte d'Italia che vuole cambiare, vuole scegliere anche una via di modernità, andare verso le forme della repubblica, come sta assumendo la Francia, come sta assumendo la Germania, come assumerà l'Austria, dunque la repubblica vista come una forma di situazione politica maggiormente laica, con potenzialità democratiche molto più ampie, una repubblica come possibilità di una politica autenticamente nuova. Di fronte all'esito elettorale, molti dirigenti della democrazia cristiana ebbero un sussulto di paura e forse ebbero anche la tentazione di non riconoscere le elezioni, ma la grandezza del Cedegaspe e di altri dirigenti democristiani che portò a dire che questa è la volontà degli italiani. Come gli italiani hanno scelto in maggioranza la democrazia cristiana, perché fu il partito di maggioranza relativa in quelle elezioni per eleggere l'Assemblea nazionale costituente, come gli italiani hanno scelto noi come primo partito e lo accettiamo, così gli italiani hanno scelto la Repubblica come organizzazione dello Stato e forma dello Stato italiano e così noi dobbiamo accettare. Dunque c'è una grandezza politica di Degaspe, in altri casi ci sarà di Togliatti, ci sarà di Nenni, ci sarà di Pertini, una grandezza istituzionale dei nostri mali costituenti che di fatto fa impallidire oggi il nanismo politico di chi ci governa, non oggi, il 2019, ma chi ci governa probabilmente da vent'anni, in uno scarso senso delle istituzioni, del rispetto democratico e anche di dialogo con l'avversario. Il problema è molto semplice però, questa classe dirigente esce dal fascismo, esce dalla resistenza, esce dalla guerra, esce dai bombardamenti, esce da Nagasaki e Hiroshima, esce dai lageri, campi in sterminio, da Auschwitz-Birken, dalla Shoah, nasce dalla resistenza, nasce dunque da una voglia di democrazia, da una voglia di libertà e valori come pace e solidarietà sono all'ordine del giorno. E dunque la Repubblica non è la festa delle forze armate, come molti oggi cercano di far passare, facendo sfilare non soldati, gruppi, reggimenti eccetera eccetera, oggi è la festa della Repubblica, è la festa del voto alle donne, è la festa appunto della Repubblica antifascista, di una Repubblica che l'articolo 11 dirà che l'Italia ripudia la guerra, è la festa di una Repubblica che parlerà di uguaglianza di fronte alla legge, ma anche di un'uguaglianza che va ottenuto superando e rimuovendo gli ostacoli che rendono poi vano il diritto e i diritti, cioè che rendono soltanto i diritti formali e non sostanziali. Di questo parleremo nelle prossime lezioni. Questa è appunto la lezione inaugurale, la lezione che ci ricorda che il 2 giugno è la festa della Repubblica, la festa che deve inorgoglirci perché proprio in quel momento di difficoltà gli italiani sepprono con un moto anche di autonomia, di intelligenza, partecipare in massa alle elezioni e scegliere appunto una forma di governo nuova che ha rotto con il passato. Ultimissima riflessione, probabilmente senza la seconda guerra mondiale, il fascismo non sarebbe crollato chiaramente nel 45, c'è di rimanere isolati, probabilmente il fascismo non sarebbe caduto nel 45 ma in maniera più tardiva, era quasi impossibile l'Italia, grande paese del Mediterraneo che ha costruito anche la sua ascesa con un rapporto di alleanza di Italia con la Germania, non entrare in guerra, era praticamente impossibile e alta considerazione, se ovviamente l'Italia non fosse dunque andata in guerra con il fascismo e con la Germania nazista e non avesse perso l'arriamento con la guerra, probabilmente la Repubblica non sarebbe mai nata perché sarebbe stata all'Italia una monarchia, avremmo poi avuto una caduta del fascismo magari più soft o comunque una caduta del fascismo più tardiva e chi lo sa che magari non sarebbe rimasta la monarchia costituzionale come è accaduto poi dopo in Spagna, altresì il Portogallo ha avuto una caduta della monarchia parafascista tardiva nel 75 ma è nata una Repubblica, un chiaramento su delle riflessioni che lasciano il tempo che trovano perché la storia non si fa con i seccoli ma si fa con i fatti, i fatti che poi vanno interpretati, i fatti sono 2 giugno è nata la Repubblica, oltre 7 milioni di italiani ed italiani l'hanno scelta, l'hanno votata, 2 giugno per la prima volta le donne sono state votare, 2 giugno dunque la festa del suffragio anche universale maschile e femminile, 2 giugno una festa di democrazia.